ciao swill family e bentornati in questo secondo video della giornata sperando che il mio albero di natale vi sia piaciuto e spero anche che siate andati a vedere il mio video precedente e se non l'avete ancora fatto mi raccomando correte immediatamente dopo questo video oggi sono super prontissimo per scoprire cosa si nasconde all'interno dell'ottava casellina del nostro calendario dell'avvento lore surprise quindi lucchettino alla mano e ho sbagliato l'apertura giriamo lucchettino alla mano e cerchiamo la casellina numero 8 e l'ho trovata subito e nella casellina numero 8 come immaginavo aspettate che sono incastrati e nella casellina numero 8 come immaginavo ho trovato il pezzo sotto della blusina che abbiamo trovato ieri e quindi cosa ci resta che fare ovviamente sfilata ed eccoci qua finalmente con l'outfit della nostra lollina completato e noi ci vediamo domani sempre qui alla stessa ora sul mio canale youtube con l'apertura della nona casellina del calendario dell'avvento un bacione a tutti e buone feste ciao